e voilà questa è la seconda parte del mobiletto per i vinili al quale ho fatto tutti i rinforzi in modo da questo qui a pull in su ovviamente no perché per appoggiare perché 20 mm il legno che metterò ecco è spesso questo qui spessore 25 tira via questo spessore rimangono 20 mm il melaminato bianco o vediamo un po di colore però presumo bianco al massimo abete color abete color chiaro ecco questa qui la struttura fatta e via ecco adesso provvederò a darci la prima mano di verniciatura di color nero e dopo di che andremo avanti a fare le altre cose ecco dunque si parte da un'idea sul disegno la si mette in pratica tagliati i tubi qui praticamente con la saldatrice e flessibilino e in più col diluente al nitro in modo da che ho dato una flessibilata generale un po tutto per tirare via la patina nera che i feri che ho non sono arrugginiti gli danno su quell'olio appunto per tenerlo perché non si arrugginisca insomma ecco e ora adesso con il diluente li ho tirati via poi ho dato una mano diciamo con il flessibilino gli ho dato una mano in maniera da tirar via quella patina e dopo di che adesso è pronto per la verniciatura ciao ragazzi ci vediamo alle prossime